palla al bologna ruba palla il milan e scarica dietro teo quando la palla era del bologna era sempre da difensore quadro lo vedi giusto nel momento è questo qua qui teo è questo qua nel momento in cui il milan ruba palla ancora non fa niente perché non fa ancora niente perché è ancora una situazione confusa la palla è del milan però potrebbe essere persa immediatamente ancora giusto e lui ha in ogni caso da guardare l'attaccante avversario questa è una situazione più tranquilla perché nello scarico dietro qua non la perde più il milan e lui inizia il suo movimento abbiamo detto che il bologna gioca sui riferimenti giusto nel momento in cui mi sposto costringo l'attaccante del bologna fare una scelta seguirmi ma fino a quando fino a dove e guardiamo la comunicazione tra l'altro centrocampista del bologna e l'esterno la palla viene scaricata dietro e teo inizia ad accentrarsi queste sono delle rotazioni da parte dei terzini e vedi che questo non fa un po fatica a seguirlo giusto perché l'esterno deve passare fa fatica e questo fa fatica invece ad uscire perché al giocatore in ogni caso vicino anche dietro e se tu guardi tra di loro comunicano vedi che col braccio gli dice vanno a prendere questo centrocampista ti sta dicendo vai a prenderlo giusto vedi però lui dice sì ma mi secca e perché gli secca perché nella rotazione il centrale del mila sta andando a ad aprirsi quindi gli secca lasciar tutto sto campo vedi che continuano a sbracciarsi a parlare questo non sa cosa fare teo continua al movimento perché perché si muove da qua perché qua lui è impallato si mette si dice in zona luce questa è una zona luce dove c'è il passaggio libero e che la riceve poi è bravissimo perché lo spazio che ha a disposizione lo usa per girarsi bene vedi che nella rotazione il difensore centrale poi lo vediamo meglio sta rotazione si trova qua e il centro e il difensore per quello questo faceva fatica a uscire e la teo poi usa le sue qualità e punta e va fino a dove va qua ti ricordi ti ho detto che giro è un fenomeno sugli uno o due che è lui infatti anche questo è perfetto poi qua manca qualche centimetro ma è un'azione che che è pericolosa ed è bella allora rimetto un attimo e rivediamo la rotazione ma il movimento la posizione di partenza adesso di teo è uguale a quella di calabria quando l'ha fatto contro la roma ci sono è molto simile vedi in quel caso pioli ha deciso la vedi bene si vede l'immagine sì la faceva sempre con la rotazione a destra cioè con calabria in questa partita decide di farla sempre con teo ti ricordi che prima teo era sempre il terzo di sinistra e tra difensore qua invece la fa fa l'opposto perché è un modo per confondere l'avversario perché se tu facessi sempre con lo stesso giocatore poi lo sanno invece una volta lo fai a destra una volta per sinistra i riferimenti cambiano diversamente guarda questa rotazione come bella da parte del milan allora qua abbiamo un centrocampista che qua un terzino è qua e un centrale che qua guarda affinazione dove sono invece guarda questo va qua il centrocampista va qua e il difensore fa il terzino guarda come si scambia i posti in questa rotazione vedi che questo è diventato centrale questo è diventato terzino e questo è diventato centrale in questa rotazione quelli del bologna l'hanno perso e hanno permesso di fare una ripartenza a teo importante vedi che questo questo era il centrocampista centrale che da qui è venuto qua il centrale che era da qua è venuto qua e il terzino da qua è venuto a fare il centrocampista centrale e questi lavori sono molto moderni e il milan li fa benissimo perché poi dopo a parte che ha anche qualità quindi quelle rotazioni si fanno un po per uscire dalla gabbia diciamo del del dei perché tu costringi l'uomo hai visto prima i due del bologna che facevano fatica a comunicare a dire cosa facciamo che diceva piglio tu piglio io piglio tu piglio io nel quel piglio tu piglio io si creano gli spazi per 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 i giocatori del milan per puntare per per farti male adesso situazione molto simile palla qua teo che piano piano si accentra difensore centrale qua e mediano qua qua vanno dal portiere rispetto a prima teo è marcato già c'è bologna c'è preso la ripartenza e si adegua giusto trova cerca di trovare delle cioè cerca di non capire di non ricapitare nello stesso errore infatti lo marca il centrale diventa il nuovo teo cioè si sposta il quarto di difesa in questo caso non è un giocatore ma il portiere se tu guardi il posto del centrale l'ha preso magnan lo vedi quindi hai centrocampista che rimasto qua hai il terzino 1 2 3 e 4 dove il centrale è diventato terzino e dove magnan è diventato praticamente il quarto di difesa la giocata è diversa perché teo non è più libero rispetto a prima però nel momento in cui la palla arriva qua a parte che qua qua c'è sempre giro che fa sempre questi uno due ti ho detto che veramente non è sbaglia uno però vedi teo da qua diventa un centrocampista che attacca lo spazio cambia ancora lo sviluppo dell'azione lui prima è venuto al centro poi da qua non è che è rimasto qua nello spazio che si crea è lui che attacca lo spazio quindi c'è questo scambio al volo tra l'esterno e giro e vedi e teo che attacca lo spazio poi non riceve lui ma vanno dalla parte opposta teo torna diventa un attaccante e anche giro diventano attaccante aggiunto fatti vedi quanti giocatori in area al milan una per vedere la pericolosità di una squadra devi vedere nei cross quanta gente riesce a portare in area e loro ne hanno cinque addirittura più quello che cross infatti l'uomo in più si libera e calciano in porta però è visto come uno sviluppo adesso lo rivediamo dall'inizio completamente diverso con teo che non è libero subito ma prima diventa prima si accentra sempre poi nel movimento attacca lo spazio diventa e ragiona da attaccante eccola vedi va come si butta attaccare lo spazio e ragiona da attaccante volevo fartela vedere perché la base dell'azione è la stessa ma gli sviluppi poi sono diversi abbiamo visto delle cose appunto come c'è un adattamento da parte dei giocatori perché si dice sempre che vogliamo cioè che ormai che non esistono più gli schemi ma ci stanno le interpretazioni le interpretazioni dei ragazzi sono in base a però a delle linee guida che l'allenatore dà e delle indicazioni strategiche che gli dà quindi c'è la palla destra in quella partita pioli dice a teo di venire a fare il centrocampista giunto al difensore centrale di allargarsi da terzino però da là può stare a loro interpretare la situazione quindi sono tutte proprio una partita a scacchi bella da vedere come nei particolari quando vedi che una cosa si ripete vuol dire che appunto c'è dietro un'idea ed è bello appunto vedere poi dopo queste idee come sono sviluppate come i ragazzi poi le usano e come magari anche gli attaccanti gli avversari fanno fatica ad adattarsi